Gigi Simoni ricomincia dalla seconda divisione. L'ultima volta fu 17 anni fa quando vinse il campionato con la maglia della Cararese. A tornare nel calcio l'ha convinto il Gubbio, squadra Umbra di seconda divisione che per l'anno del suo centenario, il prossimo, vuole conquistarsi una storica promozione. Per l'ex tecnico di Inter e Napoli la città è in fermento. Giornalisti e fotografi assemblano la piccola sala stampa dello stadio. Simoni però ha esperienza da vendere. Sa che calarsi nel calcio minore non sarà facile nemmeno per uno come lui, che ha oltre 900 panchine tra serie A e B. Bisogna considerare che io faccio fatica a riconoscere la mia squadra per ora. Faccio anzi fatica, non riesco ancora a valutare il San Marino che sarà l'altro avversario domenica. Questo è il problema più grande perché poi sul campo le cose sono uguali in tutte le categorie. Avevo voglia di rivedermi sul campo in mezzo ai giovani, avevo voglia di non guardarmi sempre solo allo specchio e vedere che invecchiavo senza soddisfazione perché non facevo più il mio lavoro. Il tecnico di Crevalcore è affezionato alla città Umbra. Proprio qui a Gubbio preparò una delle migliori stagioni in serie A sulla panchina del Napoli. Il Napoli, come l'Inter, un amore mai finito. I tifosi dell'Inter mi hanno gratificato di un amore, di un affetto che non mai avrei aspettato. Ha disprezzato il pareggio dell'Inter contro il Manchester o potrebbe essere un buon risultato come dice Mourinho? Il risultato per me è stato che è rimasto tutto come prima. La partita in trasferta non è che oggi come oggi abbia quelle difficoltà in genere che può avere invece il Gubbio.